Le ottiche fotografiche che noi fotografi tanto amiamo e che ci servono per portare a casa i nostri lavori stanno scomparendo dagli scaffali dei negozi. Nel corso del video di oggi vado a raccontarvi la mia esperienza durante un percorso d'acquisto che è stato non poco travagliato. Andremo a vedere tutti i dettagli nel corso del video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia. Mi capita di acquistare materiale, fotografico, foto, video, tutto quanto per la mia attività e anche per gusto personale. Nel video di oggi voglio portarvi la mia esperienza, chiamiamola negativa che però poi alla fine si è risolta comunque bene, durante questo percorso d'acquisto perché mi sono reso conto di una cosa che non mi è piaciuta tanto ovvero vabbè che le macchine fotografiche stanno scomparendo dagli scaffali di tutti i negozi è una consolidata realtà, è un reparto che si va estinguendo perché nessuno le compra più nessuno le comprerà più quanto meno da MediaWorld, Euronics o le varie catene. Quello è un reparto che vanno a esaurimento scorte e poi secondo me lo chiudono proprio perché nessuno compra più quella roba. Se uno vuole qualcosa di un pochino più professionale va direttamente o su Amazon o da un negozio di fotografia serio. Detto questo però io non sono andato da MediaWorld o da Trony o da Euronics sono andato appunto in dei negozi di fotografia che fanno solo quello quindi mi sono recato presso dei negozi di fotografia accreditati e ho avuto difficoltà nell'acquisto anche qui. Prima di cominciare con questa mia esperienza voglio ricordarvi di iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto. Guardate io vedo dalle statistiche che un 60% di utenti che hanno visto i miei video negli ultimi 28 giorni non sono iscritti al canale quindi so che tra voi che state guardando c'è sicuramente qualcuno non iscritto. Il bottone è qui sotto ed è gratis. Detto questo partiamo da principio. Per chi non mi conoscesse io sono un fotografo diciamo un po' vecchio stile per cui a me piace scattare con una fotocamera reflex. Mi piace scattare alla vecchia maniera non dico di usare la pellicola e di lavorare in digitale anche se mi piacerebbe però mi rendo conto che quello è anacronistico io scatto comunque in digitale però preferisco l'esperienza d'uso della reflex rispetto a quella della mirrorless. La mirrorless la adoro per fare video per esempio la uso anche per fare foto ma se devo scegliere preferisco la reflex per fare fotografie e quindi volevo un'ottica vecchia. in particolare io utilizzo Canon quindi volevo un'ottica EF le ottiche reflex. Ora dichiaratamente Canon sta smettendo di produrre questa tecnologia perché vuole puntare tutto sul sistema mirrorless. Il fatto però qual è? Questa tecnologia non è ancora 100% dismessa. Esistono ancora delle cose che vengono prodotte esistono ancora delle cose che vengono commercializzate. quindi io ho dei corpi macchina reflex non li darò mai via perché comunque me li tengo perché per certe cose secondo me rimangono superiori alle mirrorless quindi io mi tengo tutto e utilizzo il meglio a seconda di quello che devo fare. Mi trovo però in una situazione in cui dico allora ho delle mirrorless per fare queste cose e ho delle reflex per fare queste altre cose a me serve un'ottica per una reflex perché mi serve per fare una determinata cosa e sto usando una reflex per fare quella determinata cosa. Potrei farlo anche su mirrorless e attenzione però mi sono andato a guardare costi e benefici e mi sono detto allora su mirrorless questa cosa costa 4000 euro sul vecchio sistema costa 1700. Per cui capite bene che uno dice vabbè è la stessa cosa le uso per fare esattamente la stessa cosa se prendo il sistema nuovo mi costa più del doppio per cui decido di andare sul sistema vecchio visto che dovrebbe trovarsi ancora. Ora io vado in negozio e comunque mi sento dire non ce l'abbiamo che io dico ok è una cosa a cui si può rimediare si può ordinare perché attenzione sono andato anche su Amazon e il pezzo risultava a catalogo ma non disponibile e ovviamente sapete com'è Amazon se ce l'hanno te lo mandano e amen ma se non ce l'hanno e tu lo ordini dicono sì te lo mandiamo quando torna disponibile e se torna disponibile fra due mesi come la mettiamo? A me serve subito magari per cui non è stata una scelta che mi sono sentito di fare sono andato in più negozi mi hanno detto tutti la stessa cosa mi hanno detto guarda questa cosa c'è perché esiste ancora è ancora in produzione tra l'altro lasciatemi un commento per tirare a indovinare di che obiettivo si trattava appena qualcuno di voi indovina faccio il video unboxing su questo obiettivo che ormai ho trovato e l'ho comprato appena qualcuno indovina di cosa si tratta facciamo un bel video unboxing e poi farò un video recensione perché comunque è un'ottica che secondo me vale la pena recensire ed è un'ottica che usata si trova sicuramente nuova esiste ma vedremo come ho fatto a trovarla per questo vi consiglio di rimanere fino alla fine del video dunque mi dicono tutti la stessa cosa quest'ottica c'è è a listino c'è il prezzo c'è la possibilità di ordinarla però bisogna ordinarla direttamente in casa madre bisogna ordinarla direttamente a Canon perché Canon di sua iniziativa non ce le manda più perché sta spingendo solo la tecnologia mirrorless ora se da un lato questa cosa è comprensibile perché c'è stato un passaggio di tecnologia quindi la casa sta promuovendo maggiormente la nuova tecnologia che costa il doppio ricordiamocelo quindi sta promuovendo il sistema nuovo e questo va bene ci sta quello che non mi è piaciuto tanto è che comunque per il sistema vecchio mi sono proprio sentito dire guarda questa roba non c'è non ce l'abbiamo non è imprevisto che ci arrivi quindi se vuoi te la possiamo ordinare però a quel punto dico quindi ho le stesse probabilità che su Amazon quindi nel senso costa comunque 1700-1800 da qualcuno anche 190000 quindi costa comunque tanto e voi mi state dicendo che non ce l'avete in casa e questo è pacifico mi state dicendo che non è previsto che vi arrivi e questo è pacifico ma mi piace un po' di meno perché comunque mi scoraggia e non ultima cosa mi state dicendo che l'ha ordinata in casa madre ma non sapete non avete la minima idea di quando ve lo manderanno perché non hanno voglia di mandarvelo quindi scoraggiano l'acquisto della tecnologia vecchia facendovi vedere che non c'è più quella roba anche se dovrebbe essere ancora a listino a quel punto mi viene in mente che l'amico Silvio Scavetto fotografo anche lui che non smetterò mai di ringraziare una volta in tempo di pandemia ancora quindi era un momento storico un po' complicato a me serviva della roba e non la trovavo perché era un momento di penuria di materiali le spedizioni che non arrivavano vi lascio immaginare tanto c'eravate ve lo ricordate mi ricordo che Silvio vi lascio il link al suo Instagram ai suoi lavori fa cose diverse da me e in quello che fa lui è molto più bravo lui di me quindi vi lascio vi lascio il link al suo Instagram se vi dovesse servire un fotografo della sua tipologia contattatelo mi ricordo che lui mi suggerì di andare da Ottica Zanichelli che è un negozio di fotografia specializzato appena fuori Milano vi lascio anche il link in descrizione non è una sponsorizzata non mi hanno pagato né niente sto solo riportando la mia esperienza voglio però sostenere questa realtà perché è stata una realtà che mi ha dato delle risposte solide perché in un momento di difficoltà comunque perché io mi trovo a dover prendere una cosa che mi serve su Amazon non c'è il negozio non c'è francamente è inedita questa cosa non mi è mai capitato di dire prendete i miei maledetti soldi e che mi rispondessero eh no ma cavolo ti sto dando i miei soldi prendili dammi quello che mi serve no nessuno ce l'aveva ho telefonato a Ottica Zanichelli ho fatto una domanda e mi hanno detto ce l'abbiamo e io ho preso la macchina e sono andato mi pare che sia a Cormano non mi ricordo più guardate sulla mappa che io con la geografia sono pessimo sono andato arrivo lì e mi avevano detto il prezzo e ho detto guardate oltretutto costa 500 euro meno di quello che mi avevano detto sia su Amazon che in altri negozi 500 euro meno e loro mi hanno proprio detto guarda è una politica nostra cioè non è che te lo regaliamo non è che è politica nostra fare sconti 500 euro è ben inteso però detto il prezzo non lo so perché fosse così forse perché era un ultimo pezzo era lì insomma non lo so comunque dunque il punto è mi hanno proprio detto è politica nostra ordinarle queste cose noi le ordiniamo da canone ce le facciamo arrivare e ci vuole un po' noi le ordiniamo ci vogliono dei mesi magari perché non cioè sono un po' riottosi dicono ma perché non prendete le mirror hanno anche le mirror le sanno tutto però continuano a ordinare le lenti vecchie perché mi hanno proprio detto la gente le vuole la gente le vuole ancora quelle robe c'è tanta richiesta per le ottiche F perché è pieno di fotografi di vari livelli che hanno la strumentazione reflex e non hanno voglia di cacciare giù 4.000 euro sull'unghia per passare al sistema nuovo non ne hanno proprio intenzione e hanno ragione perché comunque una reflex può tirare anche 10-15 anni dipende da che uso ne facciamo ma ti tira 10-15 anni quindi e le ottiche anche per cui è pieno di gente che la vuole ancora quella roba lì me incluso e quindi vi segnalo questa cosa se avete il mio stesso problema se state cercando qualcosa che non trovate secondo me questa è una realtà che può fare al caso vostro perché ce le ha ancora quelle cose lì e perché comunque adesso io gli ho comprato un pezzo se ho capito bene la filosofia loro adesso lo riordinano questo pezzo così se fra 6 mesi arriva un altro che lo vuole nel frattempo gli è arrivato e quindi possono servire tutti quei clienti che hanno ancora il sistema vecchio stanno ancora lavorando sul sistema vecchio e magari vogliono fare un upgrade minimo sul sistema vecchio perché comunque è un sistema che funziona ancora ecco questa è una realtà che garantisce ancora questa possibilità avevano tutte le ottiche principali avevano tutte le ottiche vecchie quindi il 24-70 il 16-35 il 70-200 l'85 il 35 avevano praticamente tutto una cosa mi hanno detto che non ordinano più e questo ve lo segnalo perché questa cosa io non la sapevo non ne avevo idea essendo questa un'ottica che io non ho mai posseduto il 50 mm le f50 mm f1.2 di Canon quindi il 50 mm di punta di casa Canon per il vecchio sistema reflex mi hanno detto che non lo ordinano più ma per un motivo ben preciso non lo ordinano più perché mi hanno detto che a distanza di qualche anno fa difetto a distanza di qualche anno il sistema di messa a fuoco ogni tanto si inceppa e ha bisogno di essere revisionato e per questo motivo ho visto il costo di quell'ottica e viste diverse persone che gli hanno segnalato la cosa hanno deciso che quello non lo ordinano più però tutte le altre ce le hanno ancora e questa secondo me è una gran cosa ed è una cosa furba anche perché mi dicono loro c'è tanta richiesta di quella roba lì c'è tanta richiesta sia sull'usato ma anche sul nuovo io per esempio ho acquistato il nuovo perché come sapete ho già fatto dei video a riguardo io non mi fido tantissimo ad acquistare l'usato ma non perché penso che ci sia l'utente che mi vuole fregare ma semplicemente perché penso se io compro una cosa e la pago la metà poi mi dura di meno io invece quando compro una cosa voglio che mi duri tanto e se la compro nuova so come è stata trattata perché l'ho sempre avuta io e quindi so che mi durerà tanto perché cose tenute come le tengo io durano anni un obiettivo che prendo io poi vabbè posso farlo cadere domani e allora faccio un video di ritratto ma per come li tratto io normalmente un obiettivo dieci anni me li tira se prendo un obiettivo usato vai a sapere che non c'è un chicco di polvere che è in bilico in una ghiera ed è lì e non ha mai dato problemi ma appena la compro io finisce dentro e comincia a darmi problemi vai a saperlo e quindi non mi piace tanto la cosa di comprare usato perché ho sempre l'impressione di stare risparmiando nell'immediato ma che poi mi costi di più sostituire il pezzo in un futuro in un futuro in cui questo pezzo potrebbe anche non esserci più perché comunque nel momento Canon smetterà di mandarli questi pezzi quindi chi ce li ha bene gli durano dieci anni ma magari fra un paio d'anni Canon chiude il rubinetto e non ce li manda più e questo sarebbe per me sarebbe drammatico se avessi comprato una cosa usata che mi serve ancora e mi si guastasse in qualche maniera dovrei ricomprarla e non la troverei più quindi preferisco andare sul nuovo per questo motivo detto questo amici fatemi sapere in un commento se avete avuto esperienze simili e alle mie fatemi sapere se conoscevate Ottica Zanichelli vi invito a farci un salto se siete di zona perché al di là della professionalità dimostrata e della filosofia con cui mi trovo mi rispecchia assolutamente al di là di questo è un bel negozio di fotografia tu entri e hai muraglie di obiettivi e di corpi macchina è bello è una bella sensazione è difficile trovare una realtà così anche per la mole di cose che ha perché è un negozio che non è enorme però ha un bel assortimento io entro proprio a colpo d'occhio respiro che belle cose quindi assolutamente consigliato detto questo vi ricordo per altri suggerimenti tips e hacks di vita come questi iscrivetevi subito al canale non ve ne pentirete date fiducia a questa realtà che sta crescendo di giorno in giorno ed è tutto merito vostro io come sempre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me vi do appuntamento al prossimo video dove forse se qualcuno indovina il mio acquisto vedrete un unboxing ciao a tutti amici ciao a tutti amici